Chemtrails 1 e 2. Analisi dei cicli di investigazione con ipnosi regressiva. Sapete già che una sessione di ipnosi regressiva non può fare indagine, non può fornirci un'informazione affidabile. Per fare un'indagine seria in ipnosi regressiva, dobbiamo utilizzare un protocollo uguale per tutte le persone che collaborano nel ciclo di investigazione. L'informazione è contaminata sia in ambiente oggettivo sia in ambiente soggettivo, così come spiegato in un disclosure apposito. Come potrete notare, le informazioni differiscono l'una dall'altra. Come si lavora quindi l'informazione in questi cicli di investigazione? Si devono prendere tutte le informazioni, tutte, devono essere filtrate. La percentuale di informazione che coincide e che quindi possiamo prendere come affidabile è veramente bassa. Detto questo, Chemtrails 1 e 2. Informazione estratta dal ciclo di investigazione. Composizione fisica della sostanza presuntamente irrorata. Vario. Sostanze varie. Sostanza eterica della sostanza irrorata. Anche qui, di tutto, di più. Varia. Laboratori fisici dove queste sostanze vengono trattate, lavorate e elaborate prima della distribuzione. Anche qui, laboratori ovunque, laboratori in qualsiasi stato. Persone fisiche responsabili di questo grande progetto internazionale. Anche qua abbiamo di tutto, di più. La cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che in una sessione esce Putin. Continuiamo ancora. Effetti. Effetti delle Chemtrails. Anche qui, vari. Effetti sugli animali, effetti sui vegetali. Se guardate la tabella, che è stata resa pubblica, vedrete che le risposte sono interessantissime tutte, però diverse. Causa esoterica delle catastrofi terrestri. Chemtrails. Harp. UFO. Questi sono i tre elementi che appaiono sempre. La maggioranza dei piloti non ne è consapevole. Non lo sa. La maggioranza dei piloti non lo sa. Solo in una piccola percentuale c'è una certa consapevolezza, che a volte è solamente subliminale, inconscia. A volte è inconscia e leggermente affacciata al razionale. Vi rendete conto come piano piano i cicli di investigazione avanzano. In questo caso, Chemtrails, uno, due, ci saranno il tre, il quattro, il cinque, il sei. E ogni volta andiamo ad addentrarci con dei cicli di investigazione specifici a dei dettagli. Quindi soltanto dopo un gigantesco, enorme, pesante lavoro, possiamo dare per affidabili le informazioni che abbiamo su come funzionano certi processi. Qui siamo solamente agli inizi, sono soltanto due cicli di investigazione su Chemtrails. Immaginatevi quello che ne esce fuori dopo decine e decine e decine di cicli di investigazioni che si basano sui cicli di investigazione precedenti per continuare questa fase di filtraggio delle informazioni. Altra informazione importante che possiamo prendere come affidabile, si parla dell'irrorazione di alcune ore, fino all'irrorazione che può durare anni, se non decenni. Governi coinvolti? Anche qui. Un po' tutti. Responsabili dei progetti? Anche qui. Un po' tutti. Entità? Anche qui. Un po' tutte. L'obiettivo? È stato raggiunto? Alcuni dicono sì, alcuni dicono no. La maggioranza delle ipnosi ci riporta che il risultato ottenuto è parziale. Questo ci può indicare che tutto questo progetto, nonostante sia in marcia, nonostante sia il nuovo strumento di guerra e di controllo, sia uno strumento ancora in fase sperimentale. Di tutta questa grande informazione vi siete resi conto che quello che possiamo prendere come affidabile è veramente poco? Vi rendete conto di quanta poca informazione possiamo prendere come affidabile da una gigantesca mole di informazioni tratta dalle sessioni di ipnosi regressiva? Un'altra informazione che possiamo prendere come certa, anzi certissima, perché è un'informazione che arriva dalla stragrande maggioranza delle persone che guardano l'ipnosi regressiva su internet e che se lo mangiano tutto con patate. Amm!